Benvenuti al nostro consueto appuntamento con la rubrica Mare Sicuro, accanto a me il tenente di Vascello Favilla. Oggi parleremo della sicurezza in spiaggia, soprattutto per i bambini, e parleremo anche dell'importanza di tenere la spiaggia e il territorio plito. Sì, buongiorno. Come giustamente ha detto lei, lei è il corpo delle Capitane di Porto, a parte essere sempre impegnato in prima linea per quel che riguarda la sicurezza in mare, cerca anche di sensibilizzare l'utente finale, quindi il classico bagnante che usufruisce delle spiagge e dei litorali marini, affinché si abbia cura e rispetto per quel che riguarda spiaggia e mare. Noi cerchiamo anche di sensibilizzare, notando anche sforzi da parte delle amministrazioni comunali, con la posizione di appositi cestini o comunque contenitori per i rifiuti, affinché chiunque stiemi in spiaggia abbia il rispetto di conferire i rifiuti correttamente dove debbano essere conferiti, per cercare di lasciare il territorio pulito sia per quelli che ne soffriniscono, sia per quelli che ne usufruiranno successivamente. Un ulteriore tentativo di sensibilizzazione che stiamo cercando di fare è anche rivolto alle mamme e ai papà, che in questi giorni di particolare affluenza e di particolare concentrazione di bagnanti, prestino particolare attenzione ai propri bambini, perché purtroppo è semplicissimo, è un attimo distrarsi e poi vi possiamo assicurare che sono attimi di panico per un bambino che magari è nelle immediate vicinanze che però non viene più visto e allo stesso tempo di prestare attenzione di non lasciare i bambini incustoditi, perché anche se le condizioni meteomarine sono favorevoli, può bastare un attimo per creare delle situazioni un po' pericolose. A tal proposito vi ricordiamo che per qualunque esigenza noi siamo costantemente sul territorio, sia a terra e in mare, con pattuglie automontate e con supporto di mezzi veloci, gommoni e motovedette costantemente operanti. Per qualsiasi cosa esiste sempre il 15-30 numero blu dell'emergenza in mare, gratuito anche da cellulari, al quale rispondiamo H24 per qualsiasi evenienza o in caso di bisogno anche i numeri diretti della nostra sala operativa. Mi preme anche in questa occasione ricordare che il giorno 20 per noi è una giornata piacevole perché si festeggia il nostro 150esimo anniversario, quindi sarà per noi un'occasione di festa e di un momento piacevole. Grazie. Finisce qui quindi l'appuntamento con la rubrica Mare Sicuro, quindi ci rivediamo venerdì prossimo.